...importante, perché la nostra filosofia del periferico sorrento è quella di fare birre siano facili da bere, che sono... cosa? Birre di facile approccio, che non ha... che possano avvicinare alle birre anche chi non ha bevuto birre, birre artigianale, birre che si lasciano bere ma che comunque abbiamo qualcosa a dire, abbiamo una personalità, come diciamo noi, semplici ma non banali quindi sono birre che vanno anche abbinate prima cosa che vi dico, questa birra la possiamo abbinare a un piatto di carne, a una carne alla brace, a un brasato mentre l'altra è che facciamo la chiara con la nota cromata dovuta alle bucce del limone e andiamo a più sui piatti di pesce, una piccola di pesce, una mazzare di tuta